Veneto 1 con voi, focus attualità. Veneto 1 con voi, ben ritrovati. A chi ci sta ascoltando sui 97.500 di Radio Veneto 1, a chi invece ci sta seguendo attraverso i nostri canali social e i nostri canali video. Aggressioni e violenze, vittime sono soprattutto le donne. E le cronache, anche quelle venete della provincia di Triviso, ci riportano quasi quotidianamente storie di soprusi, storie di violenze e di minacce. A Triviso c'è un'associazione che insegna alle donne a difendersi, organizza dei veri e propri corsi di difesa, insegna anche a usare uno strumento particolare, ne parleremo proprio tra poco e ve lo faremo anche vedere. Uno strumento efficace che viene sempre più cercato e sempre più acquistato. Ne parliamo con Nicoletta Bettiol, presidente dell'associazione VBI di Triviso, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Ben ritrovata Nicoletta. Grazie a voi, buongiorno. Allora, parliamo di questa associazione VBI. Come nasce, quando nasce e perché nasce? Allora, nasce circa nove anni fa, nasce come risposta ad alcuni quesiti che io mi sono sempre posta nell'arco della mia vita giovanile. Non sono mai stata una donna che ha tollerato soprusi verso persone più deboli. Quando mi sono trovata di fronte ad amiche e conoscenti che avevano queste problematiche, mi sono posta il problema di come arginare nel mio piccolo questi problemi. Automaticamente poi è nata con condivisione con altre ragazze questa associazione ed è iniziato uno studio vero e proprio per trovare la soluzione migliore. perché non ci sembrava che quelle che erano le istituzioni preposte ad arginare la problematica facessero un buon lavoro, parliamo allora, e quindi abbiamo, non avendo professionalità in merito, ci siamo semplicemente dedicate alla raccolta fondi per poter sovvenzionare una casa protetta in provincia. Quando la casa protetta è stata chiusa per mancanza di fondi siamo entrati in campo in primo piano per fare in modo che non ci fosse più bisogno di una casa protetta. Cioè il nostro progetto che si chiama No Credit parte proprio da questo presupposto. Se io la donna non la faccio incorrere nella violenza automaticamente non ci sarà più bisogno del post violenza. È un'idea autopistica però è il nostro progetto base. E Nicoletta si fa tanto per le donne una volta che subiscono violenza, centri di ascolto, psicologi, esperti. Forse non altrettanto per prima, quindi per cercare in qualche modo di insegnare queste donne a evitare certe situazioni o difendersi di fronte a certe situazioni di pericolo. Sì, è questo il punto cardine di tutta la questione. Il post violenza negli anni si è estremamente evoluto. Il problema è stato preso in carico dalle istituzioni che si sono prodigate in quelli che sono corsie preferenziali nel pronto soccorso, piuttosto che centri d'ascolto, piuttosto che case protette che sono importanti nell'ambito della violenza. Non si è mai preso in considerazione il fatto che la donna possa non essere vittima di violenza. Questo è, lo so, è brutto da dire, ma siamo le uniche che l'hanno pensata così. Prevenire è meglio che curare in qualunque campo noi parliamo, dalla sanità al lavoro a tutto, non nella violenza. Voi organizzate dei corsi, il prossimo partirà anche nel mese di marzo e l'oggetto principale dei vostri corsi è questo oggetto che adesso stiamo anche guardando. Che cos'è? Allora, quello è l'unico ausilio legale dal 2012 che abbiamo contro le aggressioni. È legale in caso di minaccia e questo fa la differenza, in quanto l'aggressione presuppone un contatto fisico, la minaccia presuppone una percezione di pericolo. Nei nostri corsi, che sono un continuo work in progress in base alle esigenze delle nostre utenti, in base a quello che ci raccontano, quello che vivono giornalmente, ha fatto sì che noi abbiamo studiato un corso a 360 gradi che comprende la teoria dal punto di vista perché le donne maltrattate in casa sono il maggior numero di violenze oggi che possiamo riscontrare e la donna maltrattata in casa è una donna che ha a che fare con un soggetto patologicamente identificabile. Noi facciamo un seminario all'interno del corso coadiuvato anche con una psicologa che ci insegna proprio a identificare quello che è un manipolatore affettivo, quello che è il soggetto maltrattante che domani diventerà un maltrattante. Completiamo il corso con una specifica serata per l'utilizzo, il corretto utilizzo dello spray anti-aggressione perché è necessario conoscere le modalità di acquisto perché ci sono vari prodotti più o meno legali e su internet non sempre si trova il prodotto che è autorizzato in Italia ma soprattutto il corretto utilizzo perché non è che basta estrarlo dalla tasca ma è in borsa sempre in tasca lo spray e spruzzarlo. Bisogna avere delle accortezze di movimento per non incorrere nella persona che ti sta aggredendo. Poi parleremo nel dettaglio anche di come usare lo spray al peperoncino. In nove anni di attività quante persone si sono rivolte ai vostri corsi? Beh, noi abbiamo all'incirca contattato, abbiamo raggiunto all'incirca 650 donne e noi corsi non è molti anni che li abbiamo cominciati sono solamente quattro anni e in questi 650 casi ci sono ovviamente le donne che hanno già di loro la predisposizione al non essere maltrattate ma ci sono anche donne che hanno trovato una scusa per venire al nostro corso da mariti che non glielo avrebbero consentito e poi hanno avuto la forza di ribellarsi alla violenza denunciando il marito e entrando nella procedura di protezione. Il telefono della sua associazione squilla sempre anche poco prima dell'inizio di questa trasmissione stava squillando. Che storie ci sono dietro a queste telefonate? Innumerevoli le storie che ecco è importante capire perché le donne si rivolgono al VBI perché noi in fine dei conti non siamo un non siamo un'associazione preposta all'utenza finale quindi non abbiamo supporti e si rivolgono a noi perché siamo le uniche in grado immediatamente di dare il supporto perché la donna che chiede aiuto lo vuole subito siamo una sorta di 113 o 112 perché quando cercano uno sportello antiviolenza mi risponde una volta alla settimana piuttosto che la donna che ha bisogno e che soprattutto prende il coraggio lo prende in questo istante vuole la risposta in questo istante non la vuole dalle 15 alle 18 ecco questa cosa ha fatto sì che noi a parte che siamo reperibili H24 quello che possiamo fare è ovviamente noi collaboriamo con il centro antiviolenza di San Donà e le magnolie che ci dà una valvola di sfogo ai casi più disperati perché oggettivamente non sappiamo altrimenti come fare quando trattiamo un caso di una donna che ora in questo preciso istante è in pericolo di vita e non possiamo aspettare tutto l'iter burocratico che ci va dietro perché questa donna ha una persona che gli sta facendo del male in questo istante anche con figli quindi noi abbiamo questa valvola di sfogo santa dottoressa Toffoli che ci aiuta e noi chiamiamo loro e loro ci danno tutte le dritte del caso nell'immediato senta tra le tante storie senza rispettando ovviamente la privacy e l'anonimato c'è qualche storia che recentemente l'ha colpita in modo particolare qualche storia particolarmente tragica allora tragico per fortuna no ma inquietante nel senso che ho avuto a che fare un caso di una un padre rispettabilissimo che non arrivando alla ex moglie in quanto donna forte che non ha problemi di relazione con l'ex marito stalkerizza la figlia e questo è inquietante perché appunto non c'è limite al al meccanismo perverso di questi uomini pur di arrivare all'obiettivo finale che è non vuol dire necessariamente violenza fisica può esserci ed è molto peggio alle volte la violenza verbale la violenza l'avessazione continua l'instabilità di queste persone di queste donne che hanno a che fare con questi soggetti in questo caso si è rivolto a voi l'ex moglie e la figlia l'ex moglie in aiuto alla figlia senta ci sono anche uomini che vengono ai vostri corsi che vi cercano che vi chiamano allora è un caso sempre più in crescita è un caso che non avevo mai preso in considerazione negli anni ma ci sono moltissimi uomini maltrattati inconsapevoli manipolati inconsapevoli ed è una cosa che sto studiando con la psicologa di come interagire perché mentre la donna che subisce una sorta di violenza una donna che viene insultata dall'uomo è comunque una vittima l'uomo che viene insultato dalla propria donna siamo in Veneto e la posso usare la parola è un baucco quindi non ha coraggio di denunciare ovviamente come denuncia mia moglie mi insulta credo che anche il più sensibile dei carabinieri forse gli scappa un sorriso e quindi questa problematica è una cosa che ultimamente mi si sta riproponendo troppo spesso per i miei gusti per essere sottovalutata quindi stiamo appunto prendendo in considerazione l'idea di mettere le mani anche su questo problema senta tornando allo spray al peperoncino qual è l'utilizzo corretto noi abbiamo sentito anche dei fatti tragici legati all'uso dello spray in discoteca il caso Ancona tanti anche i sindaci che hanno proibito l'uso dello spray al peperoncino la notte di capodanno ma come si utilizza in modo corretto allora essendo un ausilio per la difesa va utilizzato strettamente in condizioni di pericolo di conseguenza ogni altro abuso è punito per legge c'è però una cosa che mi ha molto irritato in questi tempi che viene intanto non viene chiamato con il suo nome ma viene demonizzato no? questo spray urticante non è urticante non lo è per nulla perché è semplice peperoncino quindi non è c'acido muriatico che fa del male se la gente conoscesse anche gli effetti di questo spray che indubbiamente è efficace in quanto ti toglie la possibilità di movimento perché cominci a piangere cominci a tossire ti brucia la gola ti brucia eventualmente le parti che sono state contaminate niente più o forse un po' di più del semplice peperoncino dell'anduia voglio dire niente di eclatante se la gente conoscesse la reale il reale contenuto e di conseguenza quello che questo può fare non ci sarebbero crisi di panico perché questo è fondamentale non è un'arma batteriologica che sia giustificabile la fuga in massa vedi Torino che sembra che anche lì sia partito da uno spray e il peperoncino anche lo stesso Ancona la calma la normalità se la gente sa che è peperoncino può tutt'al più dire una parolaccia ma è finita lì non succede nulla tutt'al più piangi un po' quindi è tutto ciò che è esagerato demonizzato perché bisogna vietare uno spray io personalmente sono andata a degli eventi dove mi è stato detto non puoi entrare con lo spray e gli ho detto assolutamente non se ne parla io entro con lo spray perché perché parliamo dell'home festival come come evento importante dove dentro ci sono delle persone ubriache delle persone che hanno assunto stupefacenti e lo sappiamo tutti quindi non stiamo a nasconderci dietro un dito e tu alla porta mi dici non puoi entrare con lo spray allora tu mi segui tutto l'evento e garantisci la mia sicurezza siccome non lo fai io mi garantisco da sola con lo spray questo perché perché poi uno sciocchino mi spruzza lo spray davanti al palco per avere più spazio per guardare il concerto è tutto sempre molto strano molto particolare c'è poca normalità anche in questo caso senta lo spray legge la mano si può portare ovunque allora si può portare ovunque ovviamente in aereo no anche se io l'ho portato però era solo perché me l'avevo dimenticato avvisando avvisando è comunque un ausilio lo metti in valigia lo puoi utilizzare lo puoi portare dove si trova a parte internet allora si trova nelle armerie tutte le armerie si trova in farmacie in alcune farmacie si trova nei negozi nei supermercati si trova un po' ovunque ora ci sono solo due sono due tipologie di spray c'è uno spray più potente e uno spray meno potente allora avere uno spray in tasca che non assolve lo scopo per cui è stato acquistato è come avere in tasca una pistola scarica non ha senso portarla quindi se si acquista uno spray bisogna essere matematicamente certi che la sua potenza nella scala di Scoville sia di due milioni quindi che sia efficace quello che è l'unico utilizzato l'unico legale è il massimo della legalità senta statistiche alla mano traviso che è una provincia almeno vista da fuori molto tranquilla i dati relativi alla criminalità sono in linea insomma con il territorio è comunque un prodotto che rispetto a altre province italiane sta andando molto di più perché secondo lei perché c'è una percezione è sempre un problema di percezione a prescindere da quello che dicono le statistiche è la percezione che se tu ti muovi e hai delle persone che a tuo insindacabile giudizio non sono delle persone affidabili ti senti insicura e quindi preferisci essere sicura con uno spray perché lo spray non dimentichiamoci ci consente di difenderci a distanza quindi non arriviamo allo scontro fisico che lo scontro fisico non sempre porta al risultato immaginato senta prossimi appuntamenti prossimi corsi e chi vuole iscriversi chi vuole contattarvi come può trovarvi allora ci trovano sulla nostra pagina facebook vbi club il corso sono veramente felice che treviso ci abbia dato questo supporto è il nostro secondo corso dell'anno comincia il 6 di marzo le iscrizioni via mail a info chiocciola vbi club punto org e aspettiamo più donne possibili perché solo avendo la percezione della sicurezza e la consapevolezza che ci si può non difendere fisicamente ma difendere mentalmente cioè se io capisco che c'è un pericolo posso evitarlo senta le lascio 20 secondi per lanciare un appello a tutte le donne che ci stanno ascoltando ci stanno guardando perché credo che difendersi ma sapersi anche difendere non è solo un diritto ma insomma è una cosa sacrosanta soprattutto per una donna allora le donne dovrebbero cambiare un attimino la loro mentalità e questo è lo scopo del vbi club cambiare la mentalità femminile che mette la donna in una posizione di eterna inferiorità in realtà non è così la donna non necessariamente ha bisogno dello scontro fisico per attestare la sua parità di genere ma qualora si incontri con persone che non la pensano così deve essere in grado di tutelarsi e quindi con un corso come il nostro che consente di avere sempre sott'occhio quella che è la percezione del pericolo che ci circonda e in estrema razio anche utilizzare le tecniche di difesa ti può garantire c'è la differenza tra la vita e la morte delle volte tra la vita e lo stupro tra il fatto di poter tornare a casa in serenità ultimissima domanda lo spray può essere usato a partire da che età 16 anni i nostri corsi invece iniziano a 15 benissimo il tempo a nostra disposizione è terminato io ringrazio e saluto Nicoletta Bettiolla presidente dell'associazione VBI buongiorno grazie per essere stata con noi e vi ringrazio anche a voi per l'ascolto restate sintonizzati sui 97500 Radio Veneto 1 e sui nostri canali video e social arrivederci Veneto 1 con voi Focus Attualità